Cronaca giudiziaria con il processo per la tragedia di Rigopiano, è stato riformulato il calendario delle udienze e la sentenza slitta a metà febbraio. Ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il nostro Luca Pompei. Luca, buongiorno. Buongiorno Anna, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Oggi ultimo giorno di questo trittico di udienze assolutamente fondamentali per quel che riguarda il processo per la tragedia di Rigopiano. Visto che nella giornata di ieri, come ricorderete, c'è stata la richiesta della pubblica accusa di condanne per i 30 imputati. Oggi però la dichiarazione è quasi a sorpresa del giudice Sarandrea che ha ricalendarizzato tutto l'iter processuale per quanto riguarda questa vicenda. Inizialmente si prevedevano altre tre udienze per la metà di dicembre e a gennaio la sentenza. Invece per il prolungarsi delle parti civili il giudice ha riformulato la calendarizzazione per cui ci sarà intanto la prossima udienza, il 14 dicembre per completare la parte riguardante le parti civili e poi bisognerà dare spazio alle difese. Per cui prossime udienze nel nuovo anno il 19 e 20 gennaio e poi 25, 26 e 27 gennaio, per poi arrivare presumibilmente alla metà di febbraio con il pronunciamento della sentenza. È proprio all'udienza fissata il 18 gennaio che si sono levate le polemiche da parte di tutti, in particolare da parte dei parenti, delle vittime che col giorno avrebbero voluto celebrare il sesto e doloroso anniversario. Ma anche per le difese, stamattina abbiamo parlato con l'avvocato Valentina e ha detto che lo stato d'animo degli avvocati, dei vari imputati nel fare la propria ringa il giorno 18 gennaio certamente non sarà uno stato d'animo ideale. Insomma, però sotto questo punto di vista il giudice purtroppo avendo le disponibilità dell'aula solo in quei giorni è stato costretto a fissare l'udienza per il 18 gennaio. Intanto si parlava Anna di parti civili, questa mattina il pool dello studio Reboa, l'avvocato che cura gli interessi di parte dei parenti delle vittime. È una lunga arringa la sua, ma nella giornata di ieri un'altra arringa interessante è stata quella dell'avvocato Vania della Vigna, parte civile della famiglia Angelozzi, la famiglia di Silvia. Angelozzi è una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano. Così ha giudicato e commentato il lavoro della procura e così ha invece illustrato in estrema sintesi quella che è stata la sua arringa. La possiamo ascoltare e poi la linea può tornare allo studio. Tutte le loro omissioni, il loro non agire, hanno creato una trappola mortale in cui hanno perso la vita tutte queste persone. E sul sulco di quanto riferito dalla procura si è incentrato anche il suo intervento? Sì, il mio intervento si è incentrato sia nel caratterizzare comunque la valanga, nel distinguere il rapporto tra valanga e sisma, non poter attribuire al sisma un evento, la caratteristica di evento eccezionale perché comunque era un evento prevedibile, era un evento prevedibile in una zona sismica quale era anche Farindola e l'hotel Rigopiano, tanto che ci sono state tante sentenze della Cassazione, iniziando da San Giuliano di Puglia, ma anche tutte le sentenze della Cassazione che si sono svolte subito dopo il crollo di tanti palazzi dopo il 6 aprile 2009 all'Aquila. E dalla Casa dello Studente al convitto nazionale, in tutte queste sentenze, la Cassazione dice che in una zona sismica, quale l'Italia centrale, quale l'Aquila, la zona dell'Aquilano, comunque l'evento sismico non può dirsi mai eccezionale, ma è sempre un elemento prevedibile, prevedibile e quindi che doveva essere considerato da tutti, dagli amministratori, partendo dal sindaco, poi dal prefetto, dalla provincia, dalla regione, e quindi evitare che quella zona potesse essere abitata in quei giorni. Non dimentichiamo che il sindaco stesso aveva emesso ordinanza di chiusura nei giorni precedenti l'evento, sia della scuola, ma addirittura raccomandava ai cittadini di non mettersi in viaggio. Questa stessa attenzione non è stata data a quelle povere persone, sia ospiti che dipendenti, che erano nell'hotel Rigopiano, tanto da costruire una trappola in cui sono morti.